la colla vinilica aiutandomi con un pennello adesso ovviamente ci vado ad incollare la stoffa adesso vado a fare un buco prima con il taglierino e poi con le forbici adesso vado a togliere il cartoncino che è all'interno della carta igienica come potete vedere è facilmente removibile e togliendo viene via anche la cartigienica quindi puoi inserirla dentro al barattolo e tirare fuori la carta, quella interna adesso mancano solo i brillantini da mettere ovviamente a piacere se volete rendere profumate le vostre salviettine ovviamente non vi resta che aprire il coperchio e inserire all'interno della vostra cartigienica qualche goccina di olio che più preferite spero di esservi stata utile un bacio a tutti